tutellate da un clandestino albanese presente illegalmente sul nostro territorio. Noi abbiamo oggi denunciato il fatto che dopo dieci anni lo Stato a nostro avviso è responsabile dell'uccisione di Claudio Meggiorin perché lo Stato non ha provveduto né all'espulsione né tantomeno a impedirne l'ingresso. Oggi chiediamo e abbiamo chiesto con forza al Ministro Orlando che lo Stato non abbandoni la famiglia di Claudio Meggiorin, si faccia carico del risarcimento, si assuma la responsabilità politica della morte di questo ragazzo e ridia dignità e giustizia. Siete soddisfatti della risposta del Ministro? Il Ministro si è impegnato, si è impegnato a non lasciare sola questa famiglia, si è impegnato anche attraverso le istituzioni internazionali a recuperare i soldi necessari al risarcimento, stiamo parlando di 475 milioni di euro. Vedremo col passare del tempo se l'impegno preso davanti al Parlamento e se l'impegno preso davanti alla famiglia di Claudio Meggiorin verrà mantenuto. Noi saremo ovviamente vigili e controlleremo che alla famiglia e ai familiari di Claudio Meggiorin venga ridata dignità e la giusta giustizia che merita.